Gianluca Graziosi, prossimo impegno contro Grottazzolina, la parola d'ordine deve essere adesso continuità. Sì, dai, diciamo che in queste due partite ci siamo ripresi tutto quello che magari all'inizio avevamo lasciato per strada, quindi adesso la classifica è quella che meritiamo. È ritornato sicuramente il sorriso e la serenità nei ragazzi, il sorriso e la serenità in un gruppo così giovane è fondamentale per poter lavorare bene in settimana. La prossima partita è una partita difficilissima, loro sono una squadra che ormai sono due anni che giocano con gli stessi interpreti, una squadra che difende tantissimo, che non molla mai, soprattutto in casa loro, e quindi è un po' la partita per noi veritiamo, dobbiamo capire quanto siamo bravi e quindi giocarci in questa partita Grottazzolina.